Sulla ripresa della scuola in presenza a gennaio è ormai scontro aperto di tutti contro tutti. L'opposizione parlamentare accusa Lucia Azzolina e l'intero governo di aver solo perso tempo, mentre anche dentro la maggioranza le acque non sono per nulla tranquille. Critiche pesanti arrivano dalle organizzazioni sindacali. Il segretario della FLC CGL Francesco Sinopoli sostiene che si pensa di continuare a tenere le scuole chiuse perché questa è la via più semplice. La verità, aggiunge Sinopoli, è che siamo di fronte all'ennesimo fallimento del sistema paese sulla scuola. Se non è stato fatto nulla in questi mesi, le prime responsabilità sono delle regioni e così a fare le spese della terza ondata sarà di nuovo la scuola. Maddalena Gissi della CISL Scuola ricorda che per la ripresa delle attività scolastiche in presenza non basta stabilire una data, ma bisogna fare in modo che ci siano le condizioni per rientrare in sicurezza. Ma questo non sta avvenendo, è proprio su un fattore su cui andrebbe posta maggiore attenzione, cioè il trasporto pubblico. Proprio ieri Lucia Zolina ha annunciato che devono essere le regioni ad affrontare il tema dei trasporti perché ogni territorio ha le sue esigenze. Dall'interno della maggioranza arrivano segnali di insofferenza anche nei confronti degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico. Gabriele Toccafondi, deputato di Punta d'Italia Viva, appare piuttosto seccato per la mancanza di chiarezza e afferma se Presidente del Consiglio e Ministra dell'Istruzione da un mese dicono che è fondamentale riaprire le scuole, se il coordinatore del CTS da settimane ripete che si deve riaprire la scuola, come è possibile adesso leggere che invece non ci sono certezze proprio sulla riapertura? Viene da domandarsi, aggiunge Toccafondi, ma chi decide in questo Paese? Esperti, comitati, commissari, consulenti, prima di lanciarsi in esternazioni contino fino a tre e si parlino fra di loro. La Ministra conta sul fatto che con i tavoli provinciali insediati presso le prefetture si possano risolvere le numerose criticità e spiega anche di aver chiesto alla Sanità di creare per i tamponi una corsia preferenziale per le scuole. Intanto, fra gli studenti dell'ultimo anno della secondaria di secondo grado, si apre una ampia discussione sull'esame di Stato. Secondo un sondaggio di Scuola.net, la metà vorrebbe un esame in presenza analogo a quello dello scorso anno, ma un'altra metà vorrebbe proprio eliminarlo. E c'è anche chi ha lanciato una petizione attraverso Change.org raggiungendo già 15.000 firme proprio per la cancellazione dell'esame di Stato. In realtà però il tema principale è quello della tempistica. Che l'esame si faccia o meno è relativamente poco importante. Gli studenti chiedono piuttosto che il Ministero decida in fretta, in modo che ci si possa preparare adeguatamente alla conclusione dell'anno scolastico. Ad aumentare le tensioni all'interno della maggioranza ci ha pensato nelle ultime ore anche la ex Ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli, che ha dichiarato. Andrebbero fatti tutti gli interventi necessari per consentire alle scuole di ogni ordine e grado non solo di riaprire, ma anche di rimanere aperte sapendo da ora che dovremo convivere con il Covid per un periodo ancora piuttosto lungo. A breve dovrebbe arrivare il nuovo DPCM con le misure per il periodo natalizio, che a loro volta dovrebbero contenere anche indicazioni su cosa succederà nelle scuole a partire da gennaio. Mentre nelle ultime ore si parla persino di anticipo delle vacanze di Natale al 21 dicembre. I nostri lettori intanto si sono già espressi. In 5.000 hanno risposto al nostro sondaggio. Il 60% si dichiara favorevole sia al prolungamento delle vacanze di Natale per altre due settimane dopo il 7 gennaio, sia alla didattica a distanza almeno fino al 16 gennaio. Ovviamente su tutti questi problemi noi continueremo a tenervi aggiornati, quindi seguiteci su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni e noi ne daremo conto come di consueto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.